Siamo a Monastir, domenica 28 ottobre, davanti al mausoleo di Burghiba. I bambini giocano con le macchine nel cimitero, tra i morti e si sente questa appartenenza senza paura, tipica dei cimiteri musulmani. Siamo nel mausoleo di Burghiba, questa è la sua famiglia. La cimiterà è qui. Qui c'è un bambino? Sì, che ti ha dato anche due ura di Marocco. Siamo a Monastir, là in fondo c'è Maria, l'antica capitale del Regno dei Fenili. Qui c'è un bambino? Sì. Sì. Qui c'è un bambino? Qui c'è un bambino? Sì. Qui c'è un bambino? Sì. 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 Sì.